E' stato veramente da paura. Andiamo da solo. Ehi, senti, ascolta, ho una notizia bomba. Ah sì? Cos'è? Tammi lì, ne Dio, avremo un bambino. Ma è una notizia bomba. E' una strafigata, congratulazioni. Aspetta, aspetta, come farete? Beh, è questo il punto. A noi ci serve un donatore di sperma. Ted, potremmo finire nei guai. Conosci qualcuno migliore di lui? Pensa che bambino verrà fuori. E' il grande Tom Brady. Il più grande atleta del paese. Ora facciamogli una sega in questo bicchierino di plastica rosso. Oddio, guarda che bambinello. Ed è riposo. Che cavolo, fuori da casa mia! Oddio! E portati via il tuo orsacchiotto! Cazzo! Hai visto che lancio? Ehi Johnny, grazie per la sega. Te ne devo una. Rimbomba amici per la vita, ricordi? Non ti fai uno spinello da almeno due giorni, giusto? Sì, te l'ho detto. Sono pulito. Il bambino starà benissimo. Ok, scusa. È che non voglio uno da sfamare con un forcone quando avrà 16 anni. Teddy, se vogliamo avere un bambino dovrai provare che sei una persona in tribunale. Dicono che sono una proprietà. Tipo spazzatura o un pezzo di merda. Era meglio se avessi detto un martello o un'arancia. È solo una parola. Dovresti chiederlo ai miei antenati. Te ne stai in Africa a lavare i tuoi indumenti nel fiume con le tette di fuori e ti ritrovi dall'altra parte del mondo a scopare con Thomas Jefferson. Wow, hai mai pensato di fare l'insegnante di storia? Johnny, come facciamo? Prendiamo un avvocato e denunciamo il governo per i tuoi diritti civili. Devi essere Ted. Posso chiederti quanti anni hai? 26. Non vorrei che il mio avvocato cantasse le canzoni di Frozen durante la ringa d'apertura. Apprezziamo il tempo dedicatoci, ma io e il mio amico ora ci sediamo e cominciamo a lavorare. Mi fido ciecamente. Sì, sentiamo che tu hai molto a gaufrire. Per le emicranie. Mi farò venire un'emicrania nel parcheggio tra 20 minuti. Ted, sei speciale. Ma la cosa importante delle persone è che diano un loro contributo alla società. Beccati questo, cazzone! Ah, sei ridicolo per come corri! Allenati! Mi presti il computer? Certo, fa pure. E che cazzo? Che succede? Ma è pieno di porno! No, avevo intenzione di eliminarne alcuni. Che organizzazione! Anilingus orario, anilingus anti-orario! A volte vuoi vedere la lingua girare nell'altro senso? Pupe con l'uccello! Oh mio Dio, oh mio Dio, sono malato, ho bisogno d'aiuto! Non ci sono pupe con l'uccello, sono maschi con le tette! Come on, baby!